come sta andando ragazzi come sta andando come sta andando ci sta provando tutta la veramente jenny si stai provando tappati l'orecchio dopo di l'orecchio un attimo io sì jenny avete scopato no niente cose nostre ovviamente no a metto convincilo c'era piccolino io è piccolino ma scrive un attimo cosa state facendo lì giriamo new york non ha fatto tutto dove andiamo sul palazzo gigantesco che si vede tutto new york di notte ma sono dormite assieme questa stanza costa 5 piotto a notte bravo complimenti eh vediamo come si tira oh minchia mi sto stessi per chiedere valerio c'è mazzo enorme sta stanzetta eh bro porco 2 a new york al centro via la te porca droga ma fammi una pompa va ma quante volte provate va bene alfredo scusate eh vabbè la chiavata però ve la potete fare a new york lì sopra capita una volta oddio ho sovruto l'india dopo un secondo vabbè per dire ma ha ha provato a baciarti dieci volte oh è lei che è è una bella porca cosa hai detto bene genny sta parlando genny hai mai provato a baciarlo no ha detto che tu hai provato a baciarmi no mi ha provato a rispetto se io dico no e no quindi vuol dire che hai provato no ha detto che ci hai provato tu con me no perché è piccola dice francesca ciao ragazzi francesca sei arrivato tu e mi scappon petto mi scappon petto francesca no ti prego ahi no che bella eh ti è piaciuto che bella eh scusi ma scusami attimo è che mi emoziono io ti ripeto mi emoziono oh scusate no francesca una roba veloce cioè tu li vedi così ok cosa pensi cioè uno che va al cinquantesimo piano di una stanza cinquemila euro ma io non sapevo di questa roba ma comunque no io spero si innamorino ma ma niente valerio tutto ok tutto bene tu ma se senti francesca si 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 la sento come perché devo commentare eh no neanche una domanda si da quante è che state là quattro giorni da quante è che stiamo qua si quattro quattro giorni e quanto rimanete una settimana si altri due giorni e quindi che cazzo vuoi dire sui miei francesca eh no nel senso ci sta è bello è una bella esperienza ma di che sono amici cioè si conoscevano loro chi chiediamo vi piacevate vi piacevate voi siamo visti una volta ospiti scrive gli ospiti qua era quello il concept dei video eh ma ti conosci ti conosci per bene eh va bene process